Ci vorrà almeno un anno, questi sono i tempi per realizzare un masterplan della città di Omegna, ma d'altronde si guarda molto lontano in prospettiva e per realizzare una città turistica di anni ce ne vorranno almeno 15 o 20, dunque è bene prendersi tutto il tempo che ci vuole per cominciare. Ma si vuole già cominciare bene, con quali idee e con quali progetti? Nella realtà un anno diciamo che ricopre la prima fase di quella che sarà poi la costruzione del masterplan. Il masterplan di per sé è un progetto che racchiude delle linee guida strategiche, pertanto richiederà parecchio lavoro. I 15-20 anni racchiudono la tempistica per la realizzazione di quello che è il nostro intento. Ora il masterplan di per sé è quel documento che ci permette comunque di lavorare con concretezza, lo si può definire come un progetto capo, il progetto di tutti i progetti, in realtà all'interno avrà altri mini progetti, la nostra finalità è quella comunque che questi vengano pensati, analizzati, creati però in sinergia, quindi con una coordinazione. Cerchiamo di lavorare per creare una nuova identità a Domenia, tutti vogliamo e prospettiamo quella del turismo, per farlo dobbiamo comunque partire da un'analisi oggettiva della situazione attuale, capire quali sono le potenzialità, le risorse disponibili, le risorse invece da andare ad ampliare e sviluppare. Lo facciamo attraverso l'istituzione di un tavolo istituzionale per l'appunto, che vede comunque la presenza di tutti i rappresentanti delle forze politiche, in aggiunta gli esponenti comunque di alcune associazioni come Ascom, Federalberghi, Unione Industriali, Api, Novara, VCO e Vercelli, le rappresentanze comunque degli ingegneri e degli architetti. Quindi abbiamo comunque un parterre di collaboratori che devono comunque contribuire, valutando insieme comunque al consulente che poi comunque dovrà fare il grosso del lavoro e realizzare questo masterplan, per dare suggerimenti e comunque condividere, approvare quelle che sono poi le linee che effettivamente si vogliono seguire.